Il mio corto si chiama Heart, scritto e diretto da me. Per quanto riguarda la trama, senza svelare nulla, comunque è una storia d'amore, diciamo, tra due giovani, però dal punto di vista del maschio, che è il protagonista, ed è un punto di vista un po' malsano, anche un po' ambiguo. Al Torino Factory io ci sono capitato anche per caso, ho avuto la soffiata da un mio amico di questo concorso, siccome era un concorso nel quale bisognava riprendere con qualsiasi tipo di storia, però a Torino io sono innamorato di questa città e quindi ho voluto partecipare assolutamente. È andato bene, il corto iniziale di tre minuti è piaciuto, l'hanno scelto tra gli otto vincitori e quindi adesso sono qua a girare il mio primo corto per il Torino Film Festival. Di questa città sono innamorato per un sacco di fattori, anche sia positivi che negativi. Io sono nato, ho vissuto, ho vissuto, io ho vent'anni, quindi non è che ho fatto grande vita, però vent'anni a Torino, ho potuto vedere tutti i lati, mi piace un sacco il centro per l'architettura, ma mi piace anche la periferia, io sono nato in periferia e infatti il mio corto, sia quello di tre minuti che quello del Torino Film Festival, è comunque ambientato nella circoscrizione 3, che è quella dove sono nato. Quindi ci saranno vari rimandi di quello che io ho vissuto, ho visto. Questo corto ad esempio, il tema centrale è comunque l'amore, però il mezzo è la droga, perché diciamo io non è che ho visto nella mia zona, spacciavano tutti, però diciamo che è una realtà con cui ho avuto a che fare. Io parto come appassionato di cinema dai 14 anni, da quando ho finito più o meno le medie, e ho iniziato facendo l'Albe Steiner di Torino, che è la scuola superiore, che ti formava come tecnica audiovisivo. Dopo io mi sono specializzato nella sceneggiatura, nella regia, poi vabbè in questo corto ho fatto anche i costumi e la fotografia, e ho studiato anche doppiaggio recitazione presso l'ODS. Io sono più incentrato, diciamo nella parte proprio artistica, a me piace molto, ho voluto cimentarmi nella recitazione, anche proprio per vedere come si, diciamo, cosa prova un attore. Io in molti corti ho fatto solamente da attore, mi sono fatto dirigere da altri, quindi ho potuto provare in prima persona cosa provano, e quindi da lì quando io diventavo il regista sapevo seguirli un pochettino meglio, poi non è che ho avuto a che fare con attori incredibili, però con attori che avevano già un minimo di formazione, e quindi mi ha aiutato comunque anche a migliorare i rapporti. Per quanto riguarda il rapporto con il tutor del Torino Factory, Francesco Ghiaccio, che è un regista e sceneggiatore, non ho, diciamo, niente da dire di brutto, detta male, però è stato veramente un tutor ottimo, che mi ha, diciamo, indirizzato verso una via migliore, perché io avevo iniziato con un'idea che era assolutamente un po' fuori di testa, infatti lui mi ha tenuto basso dicendo forse no, perché non si può fare. Allora, da lì comunque la sceneggiatura nuova, l'ho sempre riscritta io, lui mi ha, siccome nasce come sceneggiatore, mi ha dato una mano molto pesante sulla sceneggiatura, mi ha detto ok, di qua e di là aggiustiamo alcune cose, e invece la regia, molto libera, anche lì mi ha dato dei consigli, però assolutamente un grande professionista. Questa esperienza mi è servita assolutamente un sacco, perché mi ha anche, oltre a essermi, diciamo, avermi messo in contatto con un grande professionista come Ghiaccio, ma anche il direttore artistico che è Daniele Gaglianone, ho potuto anche constatare, diciamo, alcuni problemi di, per quanto riguarda magari il budget, la produzione e come muoversi intorno ad una produzione che sia indipendente, ma questa volta era comunque sotto un piccolo aiuto da parte di Piemonte Movie e anche la Film Commission del Piemonte. Allora, questo corto non vuole essere una rappresentazione di tutti i giovani, di tutta la sfera giovanile. Rappresenta quella fetta, quella piccola parte di giovani molto chiusi mentalmente, infatti, senza dire nulla riguardo alla trama, comunque il protagonista non parlerà mai, non lo sentirai mai parlare. Diciamo, non si esprimerà neanche mai con altre persone, come sappiamo noi anche della caratterizzazione di questo protagonista tramite il viaggio nella sua psiche. Diciamo, per i ragazzi che sono appassionati di cinema, vogliono fare i registi, gli cineggiatori, anche gli attori, ed entrare in questo mondo perché lo ritengono, diciamo, l'unico nell'insieme quello che vogliono fare, io dico semplicemente mai arrendersi, però di dare retta, se si ha la possibilità, la fortuna di avere a che fare con altri professionisti, con 30 anni di esperienza, di ascoltarli e soprattutto di guardare tanti film, ma mai farsi influenzare da essi, quindi mai dire lui scrive in questo modo, lo posso fare anche io, perché questo è un errore che facevo io 14 anni. No, bisogna trovare anche il proprio stile, poi in qualsiasi ambito, in qualsiasi lavoro.